Ciao a tutti ragazzi, Oda, Peggy e bentornati su We are Sim In questo video parleremo finalmente di Deadpool 2, ma prima Vi ricordo che per coinvolgere più persone possibili potete condividere il video e assolutamente iscrivervi al canale E ora piazzatevi comodi con birra alla mano e sigla Abbiamo visto Deadpool 2, esattamente la scorsa settimana perché è uscito martedì nelle sale italiane E la continuazione del nostro supereroe con Travestito di Rosso Che finalmente ci danno un inizio sulla loro, sulla sugalo story che è stata tanto travagliata durante il primo episodio della serie Il motivo chiave praticamente del filo narrativo del primo episodio Finalmente adesso siamo per mettere su famiglia Che bello cazzo, infatti ero contentissimo, siamo partiti e abbiamo detto Toh, guarda che figo, finalmente con tanta fatica ci siamo arrivati e adesso finalmente ci godiamo qualche attimo Poi la cosa interessante è stata che già dalle prime battute siamo tornati nell'atmosfera classica Infatti uno se ha visto Deadpool 1 e se gli è piaciuto il primo Nelle prime battute proprio si sente già a casa Infatti mi è piaciuto molto il fatto di siano riusciti a ricreare Un po' come è successo per gli altri film della Marvel Ovvero se guardi Capitano America dopo due minuti di filmato senti che è Capitano America Stessa cosa per Iron Man e gli altri per eroi Qui è successo la stessa cosa Cominciano due minuti proprio di film e ti senti in casa Deadpool Sai che stai guardando quello anche se magari non sapevi cosa stai guardando, lo sai no? Ma questa è anche la potenza degli attori secondo me perché sono veramente troppo bravi Cioè il clima che è vero proprio il clima che dici non ci avevo mai pensato Il clima che dici tu viene proprio ricreato Cazzo cioè tu che guardi il primo, il secondo, il terzo ti rendi conto l'ambientazione in cui sei Cioè per farti capire un altro esempio se io ti porto bendato al cinema e non ti dico cosa stiamo guardando e comincia il film Tu saprai già che quello è, in un caso di esempio, il guardiale della galassia Anche se guardi solo due immagini e senza neanche vedere loro i protagonisti Esatto, bastano due immagini e sai già dove sei Pazzesco Questo è stato ricreato benissimo con Deadpool Doppia cosa positiva è che dopo cinque minuti ti hanno massacrato Cioè nel senso ti mettono a tuo agio, ti fanno ridere, ti fanno eh E dopo tre minuti, pum, ti massacrano perché, cazzo, muore lei Cioè cazzo E per quello che È stato un mix, proprio un, come si dice, uno specchio di sensazioni bellissimo È velocissimo tra l'altro perché veramente è praticamente all'inizio Subito ti vengono tutti i tuoi sogni e la tua felicità va a morire immediatamente Perché poi tra l'altro vedi il nostro Deadpool che passa un periodo veramente di merda Cioè nel senso va proprio in una tempizione Sì sì, ti danno una mazzata Cioè Ma lo stesso, cioè, quello che prende la mazzata è Deadpool in sostanza Però La senti anche La senti più il pubblico Il colpo arriva Cioè in sala è sceso un freddo Che proprio è stato ben ricaduto Grazie proprio alla qualità di questo film Che veramente ha saputo zittire una sala e metterti quasi l'angoscia addosso E provare a entrare in empatia con il personaggio Perché davvero ragazzi c'è Poi soprattutto da un film che comunque si basa come film comico non è facile, no? Cioè giusto Soprattutto dopo che parti ridendo Farti entrare così in empatia con un personaggio poi così cazzone tra virgolette Non è semplice Eppure ci sono riusciti Ci sono riusciti egregiamente anche perché Viene comunicato tra l'altro sempre dal nostro Deadpool Sapete che è solito parlare con noi del pubblico durante i suoi film Lui non per la quarta parete Sponda la quarta parete E ci informa immediatamente in una scena tra l'altro che è spettacolare Dove con la motosega taglia la gente Spara in faccia Dice che questo è un film che potevate tranquillamente venire a vedere con i vostri figli Ed effettivamente Ci sono certi pezzi che forse non sono troppo da famiglie Però la storia di per sé si regge molto benissimo Comunque appunto come hai fatto l'esempio di questa di questa scena in cui Parla al pubblico e gli dice le vostre babysitter si stanno spaccando Cioè questo film viaggia tutto su questa riga e Poi non voglio non vogliamo dilungarci tanto su tutte le scene perché ce ne sono una miriade però voglio Soffermarmi solo sul fatto di quanto questo film ha giocato su questo cosa e sui sulle citazioni E sono state tantissime di tutte o di più veramente da Star Wars C'è sempre l'immancabile Wolverine ragazzi Sì no poi la situazione di quando parlavano della trama dell'impero colpisce ancora e lui sbaglia tutto Mi sa ti sei perso un po' di questo film Forse di Leia e Luke Infatti appunto questo film oltre a citare tantissimo X-Man come hai detto tu Fa veramente un 360 gradi sul mondo geek, nerd Da tutto quello che è, infatti è bellissimo per questo E lo sa fare molto molto bene, infatti è quello uno dei punti forti è anche questo Altra cosa molto 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 interessante di questo film è quello che crediamo essere il nostro V-Line Il nostro Cable Che è questo super uomo mezzo robot tra l'altro perché probabilmente ha avuto qualche problema tecnico Sì lui arriva dal futuro quindi poi appunto penso di aver capito che si sia conciato così lottando contro poi appunto Credo anch'io Il nostro amico di fuoco ciccionazzo che poi non sarà più ciccionazzo dopo Nel futuro e comunque appunto penso che si sia scontrato con lui o comunque lui dice di essere un soldato Quindi magari è bellissimo Sì in guerra sicuramente avrà perso qualcosa Grazie alle tecnologie del futuro si è uploadato Assolutamente I vari gadget addosso È un figo atomico ragazzi, è bellissimo il nostro V-Line Allora sì appunto poi oltretutto parliamo di quanto è figo Cable Cioè veramente l'hanno reso uno dei personaggi più belli che ho visto finora probabilmente Dopo Thanos Poi no poi appunto Dopo Thanos Volevo parlare del fatto che è Thanos Cioè nel senso io voglio fargli un doppio applauso no perché sei uscito da poco al cinema come Thanos no Quindi hai un'imponenza addosso che deriva da quel personaggio che è mastodontica Oltretutto in più che sei riuscito a farlo benissimo no Quindi sai dopo neanche un mese riappare al cinema No ma poi come in un altro ruolo di ville no Uno dice ma sai magari poteva non rendere tanto perché c'è in testa Thanos Ma che Proprio A me non è mai venuto in mente Thanos No ma poi è riuscito a dare una caratterizzazione totalmente diversa e azzeccata Che è veramente Cioè veramente un applauso e un vinchino È un bellissimo personaggio sotto ogni aspetto perché appunto il suo background è fighissimo Arriva già dal futuro Lui come come parte ha fatto un ruolo Lui è un attore coi controcoglioni su questo non c'è dubbio C'è veramente una capacità di gestione c'è passare da Thanos a lui così Da ta 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 veramente Della strana La sua storia è molto bella perché arriva dal futuro E arriva dal futuro con una missione cioè quella di ammazzare questo ragazzino Quello che un po' potrebbe ricordare la trama di giorni di un futuro passato sempre di X-Men parlare Che comunque loro sono tornati indietro per prevenire un male maggiore Che erano quelli qua stessa cosa più o meno Lui torna indietro perché la sua famiglia e tantissimi altri come dice lui vengono ammazzati Da appunto da questo giovane ragazzo che viene prima maltrattato in un centro da dei psicopatici bastardi È un mutante Sì appunto viene maltrattato quindi crescendo Poi viene abbandonato anche a un certo punto da Deadpool e quello scaterà proprio il passo finale Il momento dove lui decide e fa la svolta Sì si deve ammazzare tutti dopo che in realtà prima aveva provato a diventare amicissimo di Deadpool Infatti è stato un peccato che subito non si è capito ma ai fini della storia doveva per forza andare così Perché poi abbiamo queste scene bellissime dove Deadpool cerca di ammazzarsi perché vuole raggiungere la sua amata Sì bellissimo cioè veramente ogni cosa in questo film io non ho trovato difetti veramente Trovarne proprio devi andare alla schiare e non ho voglia di farlo Perché il film è stato talmente capace di emozionarti che non hai avuto neanche il tempo di dire Quello lì non va bene Scorre talmente leggero e scorrevole che è una roba veramente piacevole Poi oltretutto appunto per non andare a discutere delle scene che ce ne sarebbero in infinità e non avremo tempo Voglio soffermarmi su un altro fattore fondamentale anzi altri due Ovvero l'ingresso della X-Force Che è stata una delle cose più geniali di questo film Cioè veramente Uno come ha fondato come ha creato la squadra Bellissimo Cioè la selezione è stata un qualcosa di Cioè non sono riuscito a smettere di ridere da un secondo all'altro E poi l'esecuzione della missione Cioè è stata una cosa incredibile Ragazzi avete visto che è Roma Cioè da quando si buttano Poi muoiono tutti Cioè veramente E poi tra l'altro Apro una parentesi perché Ho letto una cosa esilarante La definirei esilarante su internet Non so se sia un fake o una cosa reale Ho letto che Peter Il personaggio della nostra X-Force Il più forte Io sono tipo love Peter Ecco ecco Vogliono Ho letto che vogliono fare uno spin off dedicato a lui Però Non lo so Su questo non so se sia una realtà Oppure una grandissima e enorme boiata Penso più la seconda Ma se non fosse così Io andrei subito a vedere Non ho dubbi che andremo Comunque Peter Questa creazione della X-Force Oltre a essere molto divertente Ci dà la possibilità di conoscere un personaggio chiave Che io ho amato Che penso tu stia parlando di Domino Perché veramente È una cosa atomica sta ragazza Io penso No ma poi Deadpool La cosa bella è che ci scherza sopra C'è una cosa allucinante La prende sempre per il culo Per il fatto che sia un potere subito Il suo super potere è la fortuna No ma poi Si diverte a pigliare per il culo Anche Chi ha ideato questo potere Sai che dice Minchia deve essere proprio uno strappato Tipo Chi ha inventato sta cosa Se un fumettista Però ha finito le idee qua E invece Io trovo che sia di una genialità Cioè poi Appunto la presa in giro è voluta Non è che pensi quello E proprio perché viene preso in giro Io da proprio l'idea di quanto sia cazzuto Questo potere Veramente una figata E poi appunto La piglia anche per il culo Dicendo non è cinematografico Eccetera Proprio per il fatto che invece lo è Perché lei Va avanti E tutto li capita intorno Si sostiene tutto intorno E sempre tutto le va bene Infatti io veramente Abbiamo introdotto un personaggio devastante Veramente È veramente un ottimo personaggio Non aspettavo una roba del genere Se devo essere sincero Ma non me l'aspettavo proprio Mi aspettavo un super villain Perché comunque appunto Sappiamo da chi è E però questo personaggio Non lo voglio neanche definire secondario Perché non lo è Ormai è entrato tutti gli effetti A far parte del nostro cast Però ragazzi È veramente una figata atomica Oltretutto È veramente cazzuta È veramente molto cazzuto Tra l'altro Oltre ad essere fortunatissimo Cioè È veramente in gamma nella lotta Sì sì Perché comunque ha una preparazione di base No però In aggiunta a tutto questo Ha un culo Un culo enorme Eh va bene Villan che però arriva Successivamente Che è lo stesso ragazzino Se vogliamo Ma C'è un altro grande ingresso Ovvero fenomeno Fenomeno Che torna in Ida Auger Ricordate il fenomeno Infatti Come dimenticarsi questo bestione bastardo È fighissimo tra l'altro Come lo hanno utilizzato Perché Usano il ragazzino Che Si mette d'accordo con lui Lui diciamo Scappiamo insieme Poi tra l'altro In due secondi Loro diventano super amiconi E quindi lui Ha la strada spianata Per il suo futuro Da bastardo Cioè nel senso Da stronzo Per quale che vuole diventare Sì Perché la sua missione Nell'immediato È andare a bruciare Quello stronzo Che era Sì purtroppo Poi esagererà Perché E poi Andrà degenerando La cosa Esatto E allora dovremo fermarlo E soprattutto Evitare che Cable Compia La missione Sì esatto Perché ricordiamoci Che lui Appunto torna nel passato Per ammazzarlo E togliere così Problemi per il futuro Nella sua figaggine Poi oltretutto Cable È difficile da convincere Perché Giustamente Ha tanto da perdere È tanto da riguadagnare Quindi deve Però c'è La svolta Che dà ancora Una marcia In più di nuovo A questo film È quando Cable Alle strette Perché Arriva fenomeno E dice Io se non mi metto Insieme a te Non posso fare niente In più Aggiungerei Come valore aggiunto Al film La scelta Di far maturare Tra virgolette Il personaggio Deadpool Cioè Rimane comunque Un cazzone Ma Adesso Inizia più a prendere Consapevolezza Dei suoi mezzi Della sua missione Del suo essere Comincia ad essere anche Un po' più umano Infatti grazie Alla sua Al suo Cioè Ormai il personaggio È maturato Grazie a questa Presa di coscienza Di posizione Riesce a comincere Cable Senza questa Presa di maturità Non sarebbe mai Riuscito a comincere Cable E il massimo La massima espansione Di questa Di questa crescita Arriva nel momento In cui si sacrifica Si sacrifica Per i ragazzi Per i ragazzi Qui veramente Ragazzi Di fatti Qui mi ricollego A quello che dicevo prima Del Questo è un film Anche per famiglie Assolutamente sì Perché Appunto Il Deadpool In questo caso Per via della perdita Che ha Che ha avuto Deve Svilupparsi E Andare a salvare Questo ragazzino Un po' come missione personale Per riuscire A crescere Lui Personalmente Perché comunque Continua la sua ragazza Dall'aldilà Dirgli No Non sei ancora pronto Devi metterti il cuore a posto Devi metterti il cuore a posto Ed infatti È bellissima questa cosa Ed è il motivo Per cui si muove Tutto il film Anche se per famiglie Comunque Dovresti censurare Il tre quarti delle scene Ma va bene Però comunque Faremo una versione light Però lo proporremo Alla Marvel Che Ok E quindi Vediamo le scene finali Dove abbiamo Cable Deadpool E Domino Insieme Poi vabbè Vogliamo parlare anche Del nostro New entry Del nostro Tassista indiano Che vuole diventare Tutti i costi D'assassino Questa qua Questa qua è una stupidità Geniale E rispetto a Le stupidità Di miei occhi Di tante altre produzioni Infatti Poi il passo è molto È molto Breve Da diventare una cosa C'è una linea sottile Loro sono capacissimi A stare dalla parte giusta Loro ci danzano sopra Senza problemi E ne abbiamo di nuovo Avuto La dimostrazione Soprattutto perché Continuare a mantenere Lo stesso livello Comunque Su un prodotto Numero due Dopo un'uscita Dopo il primo È difficile Quasi superato La bellezza del primo Cioè Comunque Ha raggiunto Lo stesso livello Sicuramente Oltretutto Io vorrei fare Un Veramente Mi inchino Mi inchino Mi devo inchinare Alla scelta finale Delle ultime scene In cui Deadpool sia proprio Ah perché Aspetta Prima devo dire una cosa Oltre a essere A essere uscito A cominciare Cable Cable addirittura Poi diventa ancora più figo Di quanto poteva essere Perché decide Di rimanere nel presente E riavvolgere il passato Per salvare Deadpool Sì è comunque La situazione E quindi già qui È una scena fighissima Grazie a questo Marchingegno Poi io devo applaudire Alla scelta finale Di tornare indietro Nelle linee temporali Di Ryan Reynolds Neanche di Non di Deadpool Cioè questa cosa qua È micidiale E l'hanno fatto per vedere La fine è bellissima Quando torna Dal nostro amico Wolverine Ha ripercorso un po' Il suo passato Buttando via Tutto il marcio Tutto quello che è successo Prima di quello che è Deadpool Ovvero il vecchio Deadpool È anche la scelta Di fare la lanterna verde Infatti queste cose qua Che poi sono Cioè col film Non c'entrano niente Ma sono tutte cose Che nascono dalla rete E metterle nel film Secondo me è stata Un'altra generata ulteriore Che rende ancora questo film Se vogliamo Ancora più particolare E a sé come genere Ma sia ancora più Immerso nel tutto L'universo È coraggioso È molto coraggioso Come scelta tra l'altro Perché Lì stai uscendo veramente Dai canoni Dal personaggio Oltretutto Lì stai andando Sulla vita personale Dell'attore Che interpreta Deadpool Però questo lavoro qua Lo riesci a fare bene Solo se hai costruito Bene il film E avendolo fatto Sono riuscito a incastrare Perché con un film fatto male Una roba del genere Risultava kitsch Cioè proprio la stupidaggine Invece Sono riusciti Proprio a renderla Un valore Ancora più aggiunto Devastante Bravi Questo più o meno È quanto Quello che abbiamo visto Noi in sala Sì E c'è da dire Che hanno già annunciato Il 3 ragazzi Quindi prepariamoci Probabilmente Quindi la continuazione Manterrà questo livello Perché ne abbiamo avuto La controprova Proprio adesso Sì chissà Chi andremo a combattere Adesso poi Vedremo Vedremo Finalmente Forse Il ritorno Della sua ragazza Che a quanto pare È riuscita E tornando indietro A lasciarla sopravvivere Hanno filato il coltello da burro Della burro Vediamo che il coltello da burro Si ha filato E non sono Non ha più commesso l'errore Quindi in teoria Rivedremo la coppia insieme Cosa che gli fa molto piacere Soprattutto sarebbe figo Dopo averli Intravisti Questa volta Nella mansion Dell'X-Men Anche altri eroi Oltre a Colosso E testata lega sonica Dentro La scuola Dei mutanti E quando lui Come sempre Si lamenta Con noi Pubblico Che Che la produzione Non aveva soldi Che figo Fa troppo scassare Loro chiedono la porta Infatti Gli abbiamo intravisti Perché non è possibile Dove sono gli altri Ops Noi non ci vogliamo essere Ficcateci stare Infatti Spero che nel prossimo Magari Gli utilizzeremo anche qualcuno Proviamoci Soprattutto io credo Che sia così Perché da adesso In questo film Non era ancora stato possibile Ma da adesso Disney ha comprato Anche l'X-Men Quindi Marvel, l'X-Men Tutto insieme Potrebbe diventare tutto Un unico calderone Ormai I dritti ce li abbiamo Quindi potremmo usarli Abbastanza con Libertà E quindi Secondo me Vedremo Un bel po' di gente Famosa anche all'interno Di Deadpool Come eroi E quindi Secondo me Potrebbe diventare Un terzo capitolo Super super interessante Perciò Non ci resta che Domandare a voi Che cosa ne pensate Cosa vi è piaciuto E cosa non vi è piaciuto Cosa non vi è piaciuto Soprattutto Personalmente Non ho trovato quasi nulla Che non andasse Sì Però Il mondo bello Perché vario E quindi anche Qualcuno Nei nostri amici Non sarà piaciuto Io spero di no Ma se qualcuno Non gli fosse piaciuto Mi raccomando Il commento Ma anche Le cose belle Soprattutto Quindi Tutto quello che pensate Nel commento Qua sotto E naturalmente Chi non avesse ancora fatto L'iscrizione Al canale Qui sopra Come sempre In descrizione Troverete i link Per i nostri canali social A me non resta Che darvi appuntamento Al prossimo video Un saluto da Oda E un saluto da Beggi Ecco perché Secondo me Cocoon È un film Altamente Pornografico Dio come Vorrei aver finito Il college Un saluto da Oda